Commercianti allo stremo nel centro storico di Salerno, sempre più le attività che chiudono i battenti in via mercanti, la manifestazione lucida artista. Non basta dunque da sola salvare la città vecchia. Ai microfoni di 8 Channel l'appello disperato degli esercenti. C'è da dire che dopo le luci d'artista, quindi dopo dicembre che è stato abbastanza caotico, abbiamo avuto diciamo un buon riscontro. Adesso si inizia a sentire un po' il calo. Parcheggio e poi noto che comunque è una zona un po' di passaggio. Il centro storico è finito quando hanno tolto il mercato alla rotonda. Lei stava a Pastena, stava a Mariconda, veniva a Salerno a fare la spesa. La situazione che avviene ai mercanti purtroppo è totalmente ferma. Probabilmente forse la gestione del centro storico in quanto pulizia, eventi, quello un po' va a penalizzare. Siamo passati da negozio di rione al negozio che illumina le strade. C'è più vita di notte che di giorno, i palazzi sono vuoti, ci sono solo i turisti eventualmente, nessuno ci abita più. Ovviamente c'è la carenza igienica che è notevole, soprattutto nei vicoli lo spazzino è un ricordo. Si è persa un po' l'identità di questo quartiere. Ma se non ci sono più i cittadini, i salenditani, i bambini che corrono, che giocano a pallone, le biciclette, ma anche il parcheggio per far venire qualcuno da fuori. Anche il parcheggio incide sul commercio, ma la batosta che noi abbiamo avuto è, diciamo, dico un nome ma ce ne sono tanti, Alson. Purtroppo la gente restia a scendere da casa, clicca sul computer, pagano e via. Perciò stiamo proprio inguagliati.